Allora, io mi chiamo Giorgia Broseghini, ho 25 anni e no, non è la prima volta che canto in pubblico. Il mio primo karaoke è stato a 12 anni con My Heart Will Go On, quindi è un po' che canto davanti alla gente e sono stata molto contenta perché mi hanno fatto la scena del Titanic. A quale cantante vorresti assomigliare? Bella domanda. Ultimamente mi sono appassionata molto a The Florence and the Machine e avere una voce come la sua sarebbe un sogno, ma bisogna studiare tanto e è un po' impegnativo. Sei appena uscito da uno studio discografico, raccontaci questa esperienza. Raccontaci, con due C, bravi. È stato molto bello, mi sono lasciata andare, mi sono sentita molto bene e quindi è andata molto bene, direi. Parlaci dei tuoi genitori. La mia mamma mi ha accompagnata oggi e è molto contenta che abbia cantato alla nevicata del 56 perché ce la ricordiamo dal Sanremo del 90 e ci ricordiamo il vestito di Mia Martini che lo adoriamo entrambe. Hai vinto a Vartalent 12, urla più forte che puoi! Che cosa stupida. Qual è il tuo più grande sogno? Lavorare a Disneyland, oppure alla Disney, oppure alla Pixar. Hai 30 secondi per cantarci qualcosa a cappella. Figo! Allora, vediamo. Ah, visto che ho detto Florence and the Machine, facciamo quella. La mia mamma mi ha parlato. Cosa ti ha dato finora l'esperienza Vartalent 12? Quest'anno l'ho presa molto sul tranquillo, quindi in realtà non spiano dalla finestra. Quindi, no, è stato piacevole, tranquillo. Avevo anche altri pensieri, quindi l'ho presa proprio sul divertente. Quali sono secondo te le tre cose più importanti nella vita? Pazienza, ottimismo e metteteci quello che volete voi. L'ultimo CD che hai comprato? L'ultimo CD che ho comprato? Dire che si comprano CD. Ho comprato Fan House di Pink. Un'idea per cambiare il mondo? Chiedete alla persona sbagliata. Dove ti vedi fra cinque anni? Spero a lavorare in uno studio di animazione. L'intervista è finita, saluta il pubblico di Vartalent 12. Ciao pubblico di Vartalent 12!